Si è perso, Gollum! Ma tu non hai risposto alla mia ultima domanda e avevi promesso, disse Bilbo. Non ho risposto, disse Gollum. Poi a un tratto dalle tenebre giunse un sibilo aspro. Cosa esso nelle sue tasche? Deve dircelo, prima ce lo deve dire. Per quanto ne sapisse Bilbo, non c'era nessun motivo particolare per cui non dovesse dirglielo. La mente di Gollum era arrivata alla conclusione giusta più velocemente della sua. Per forza, perché Gollum aveva rimuginato per un'eternità su quella sola cosa e aveva sempre paura che gliela rubassero. Ma Bilbo era seccato del ritardo. Dopotutto il gioco lo aveva vinto lui, abbastanza correttamente del resto, correndo un rischio terribile. Le risposte andavano indovinate, non date, disse. Ma non era una domanda leale, disse Gollum. Non era un indevinello, tessaro, no. Oh beh, se parli di domande normali, disse Bilbo, allora te ne ho fatta una prima io. Che cosa hai perso? Dimmi questo. Che cos'ha esso nelle sue tasche? Il simbolo risuonò più forte e più aspro, e Bilbo, guardando in quella direzione, vide con spavento e apprensione due puntini luminosi che lo scrutavano. Più il sospetto cresceva nella mente di Gollum, più i suoi occhi brillavano di una pallida fiamma. E cos'hai perso tu? insistette Bilbo. Ma ora la luce negli occhi di Gollum era diventata un fuoco verde che si avvicinava velocemente. Gollum era di nuovo in barca e stava remando furiosamente per tornare sulla riva scura, in preda a una tale collera per la perdita subita che nessuna spada lo avrebbe potuto fermare. Bilbo non poteva indovinare cosa avesse sconvolto quell'essere miserabile, ma capì che il gioco era finito e che Gollum aveva intenzione di ucciderlo e mangiarlo. Fece appena in tempo a girarsi e a correre via alla cieca su per l'oscuro passaggio per il quale era sceso, tenendosi sempre vicino alla parete e toccandola con la mano sinistra. «Cosa ha esso delle sue tasche?» Il sibilo risuonò forte e dietro di lui e Bilbo udì anche il tonfo che Gollum fece calandosi dalla barca. «Vorrei proprio saperlo anch'io!» disse mentre avanzava ansimando e inciampando. Mise la mano sinistra in tasca e l'anello gli sembrò molto freddo mentre si infilava quietamente nell'indice che lo andava cercando. Il sibilo ora era proprio dietro di lui, Bilbo si voltò e vide gli occhi di Gollum che salivano su per la china come piccole lampade verdi. Terrorizzato, cercò di correre più forte ma improvvisamente urtò col piede contro una sporgenza del terreno e cadde con la spada sotto di sé. In un attimo Gollum gli fu sopra ma prima che Bilbo potesse fare qualcosa riprendere fiato, tirarsi su o brandire la spada Gollum lo sorpassò senza accorgersi di lui imprecando e sussurrando mentre correva. Cosa voleva dire tutto ciò? Gollum poteva vederci al buio anche da dietro Bilbo poteva vedere la luce dei suoi occhi che balenavano fiocchi a fatica si rialzò e rimise nel fodero la spada che ora brillava di nuovo debolmente poi si mise a seguire Gollum con molta prudenza non c'era altro da fare a quel che pareva non aveva senso strisciare di nuovo laggiù al lago di Gollum forse se lo seguiva quell'essere avrebbe potuto portarlo non volendo a qualche via di fuga. Maledetto, maledetto, maledetto si bilava Gollum Maledetto il Baggins è scomparso che cosa ha esso nelle sue tasche oh sì che indoviniamo il tessaro sì l'ha trovato l'ha trovato per forza il mio regalo di compleanno Bilbo drizzò le orecchie e finalmente cominciava a indovinare anche lui accelerò un po' il passo avvicinandosi quanto più osava Gollum che ancora andava di corsa senza guardarsi indietro ma volgendo la testa ora da un lato all'altro come Bilbo poteva vedere nel debole bagliore riflesso sulle pareti il mio regalo che sia maledetto come abbiamo fatto a perderlo tessaro sì è così l'ultima volta che siamo passati di qua quando abbiamo tirato il collo a quello di osso che strillava tanto e così maledetto ti è scivolato via dopo tutti questi anni è scomparso Gollum improvvisamente Gollum si sedette e si mise a piangere con un suono raschiante e gorgogliante orribile a udirsi Bilbo si fermò schiacciandosi contro la parete della galleria dopo un po' Gollum smise di piangere e cominciò a parlare sembrava che stesse litigando con se stesso non ci va di tornare indietro a cercarlo là no non ricordiamo tutti i posti dove siamo passati e non serve a niente il Ben Gins ce l'ha in tasca quello di osso ficcanaso l'ha trovato lo diciamo noi lo supponiamo lo supponiamo solamente non possiamo essere sicuri finché non troviamo l'odiosa creatura e lo strozziamo ma non sa cosa può fare il nostro regalo non è vero lo terrà in tasca e basta non sa che può andare lontano si è perso quello di osso ficcanaso non sa la via d'uscita l'ha detto si l'ha detto ma imbroglia non dice quello che pensa non vuole dire cosa sa in tasca lo sa sa la via d'entrata deve sapere la via d'uscita si scappa verso l'uscita di dietro certo l'uscita di dietro allora lo cattureranno gli archi non può uscire da lì tessaro scalo gli archi si ma se ha il regalo il nostro tessoro di regalo allora se lo prenderanno gli orchi gollum lo troveranno scopriranno cosa fa non saremo mai più al sicuro mai più gollum uno degli orchi se lo infilerà e allora nessuno lo vedrà ci sarà ma senza vederlo nemmeno i nostri occhi acuti possono trovarlo e arriverà silenzioso e scaltro a catturarci calù calù quindi smettiamola di parlare tessaro e affrettiamoci se il Baggins è andato per di qua dobbiamo correre a vedere su non è lontano in fretta con un balzo gollum si alzò e guizzò via veloce Bilbo si affrettò a seguirlo ancora con prudenza benché adesso la sua paura maggiore fosse di inciampare in un'altra sporgenza e di cadere rumorosamente aveva la testa in un turbine di speranza e meraviglia sembrava dunque che quell'anello fosse magico rendeva invisibili naturalmente aveva sentito parlare di simili portenti nelle antiche leggende ma era difficile credere che ne avesse davvero trovato uno così per caso eppure era proprio vero gollum cui suoi occhi luminosi lo aveva oltrepassato correndo a meno di un metro di distanza da lui avanzavano gollum davanti dondolandosi come un anatra sibilando imprecando bilbo dietro silenzioso come solo un hobbit sa essere in breve arrivarono a un tratto nella galleria dove come bilbo si era accorto scendendo si aprivano alcuni passaggi laterali gollum cominciò subito a contarli una sinistra sì una destra sì due a destra sì sì due a sinistra sì sì e così via col crescere del numero gollum rallentò e si mise a tremare e a piagnucolare poiché stava allontanandosi dal lago e cominciava ad avere paura potevano esserci in giro degli orchi ed egli aveva perso il suo anello alla fine si fermò davanti all'apertura bassa a sinistra salendo sette a destra sì sei a sinistra sì susurrò ecco qua questa è l'uscita di dietro sì ecco il passaggio scrutò all'interno e si ritrasse ma non dobbiamo andare lì tesoro no non dobbiamo ci sono orchi lì tantissimi orchi sentiamo l'odore cosa faremo sciagura e sventura su loro aspettiamo qua tesoro aspettiamo e vediamo così arrivarono a un punto morto Gollum aveva portato Bilbo fino alla via d'uscita dopo tutto ma Bilbo non poteva passare c'era Gollum in mezzo con gli occhi che brillavano freddi sulla sua faccia mentre la girava da una parte all'altra tra le ginocchia Bilbo si allontanò strisciando via dalla parete più silenzioso di un topo ma Gollum si irrigidì immediatamente fiutò l'aria e i suoi occhi divennero verdi si bilò piano minacciosamente non poteva vedere lo Hobbit ma adesso stava in guardia e aveva altri sensi che il buio aveva affinato l'udito e l'olfatto sembrava acquattato con le piatte mani schiacciate per terra e la testa protesa il naso quasi sulla pietra pur essendo solo un'ombra nera nel baluginio degli occhi Bilbo poteva vedere o sentire che era teso come la corda di un violino pronto a balzare che era che era che era